WPC LOL, salam alaikum, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di PES 2018, sono sempre io, Walter Alcazzi, il fondatore di WPC LOL. Di a volta abbiamo pareggiato una partita pirotecnica contro l'Avellino con un 4-4, nel primo tempo avevamo la partita in pugno con 4-0, nel secondo tempo siamo crollati e l'Avellino ci ha creduto e è riuscito a riagguantare la partita, noi non siamo riusciti comunque, abbiamo sbagliato troppo e niente, è andata così, un parè, e tra l'altro non abbiamo approfittato sia la sconfitta del Parma che il pareggio del Perugia che ci stanno davanti e rimaniamo comunque al terzo posto e ora siamo una lunghezza solo in più dello spezia. Comunque... vediamo un po'. Vabbè, niente, giochiamo la prima partita di Coppa Italia dove affronteremo il secondo turno, lo spezia. La Coppa Italia ho deciso che schiereremo una formazione un po' diversa, sempre la stessa, ma De Santis questa volta faremo giocare Pressello, al secondo partito gli dovremo comunque far giocare delle partite. Poi Natale-Venezia che comunque non ha ancora giocato, diamogli al posto di Navi Zahara, poi Alessandro Vittorio al posto di Sheriff Ibrahim, al posto di Granito mettiamo Taha, poi Mirko, anzi facciamo così, poi c'è Nicola Motta al posto di Nel DL Plasma. Così giochiamo con una formazione un po' diversa. Quindi affrontare di uno lo spezia. Quindi affrontiamo la prima partita di Coppa Italia, di Coppa Italia. di Coppa Italia. Seguì la prima partita di Coppa Italia. Tome. Sotto. Inoltre la prima partita di Mauri. E' subito. E' un paolo di Galo Italia. Lo prezzi la prima partita di Coppa Italia. E' una parte prima partita di Coppa Italia. Lo prezzi la prima partita di Il primo luogo. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. Allora, come è? Vabbè. Juve Staventano 1-0. Spalza solo 1-0. Fiorentina presione 0-1. Ascoli Milan 0-2. Inter Parma 4-0. Palermo Genoa 0-0. Udinese Bologna 2-2. Spezia VPC LOL 2-2. Napoli Avelino 1-0. Verona Sampdoria 2-2. Chievo Verona Provercelli 1-0. Cremonese Lazio 4-0. Torino Foggia 1-0. Bari 1-1. Cagliari Benevento 0-0. Novara Roma 0-2. Sì, non si può vedere la Cremonese che batte la Lazio 4-0. Vabbè. Ah, questo è il tabellone. Noi siamo nella parte a destra. Quindi possiamo... Eh, potremmo finire pure contro l'Inter e contro la Juve. Vedo dall'altra parte. Affronteremo solo... Vabbè. 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 Niente. Ah, già subito la partita di ritorno ci sarà. Ma l'affronteremo al prossimo episodio. Vabbè. Vabbè. Non mi interessano sti giocatori. Io non voglio nessuno. Per ora. È ancora presto per dire chi è in vantaggio. Beh. Siamo favoriti, comunque. Spezia. Qui da Walter Alcaz è tutto. Ci si vede al prossimo episodio. Ciao. Come diciamo in arabo... Assalamualaikum. Salam. Ciao. Ciao.